Claudio, sentinella romana. Dopo la cattura l'affidarono a me. Ricevetti da Ponzio Pilato l'ordine di vigilarlo fino al mattino seguente. I miei soldati lo condussero in prigione. Si mostrò docile e obbediente. A mezzanotte lasciai per un poco mia moglie e i miei figli e andai a ispezionare l'arsenale. Era mia abitudine compiere un giro di ispezione per controllare che tutto procedesse bene. Nelle schiere di Gerusalemme a me affidate e quella notte visitai l'arsenale dove era rinchiuso quell'uomo. I miei soldati e alcuni giovani giudei si stavano prendendo gioco di lui. Gli avevano strappato la veste di dosso e sul capo gli avevano messo una corona di spine fatta con i rovi dell'anno passato. L'avevano fatto sedere contro una colonna e danzavano e schiamazzavano davanti a lui. Egli avevano dato da tenere in mano una canna. Vedendomi entrare qualcuno esclamò. Guarda capitano ecco il re dei giudei. Mi fermai dinanzi a lui e lo guardai e fui preso da vergogna. Non so dire il motivo. Avevo combattuto in Gallia e in Spagna e con i miei uomini avevo visto la morte in faccia. Eppure non avevo mai avuto paura. Non ero mai stato codardo. ma quando fui di fronte a quell'uomo e lui mi guardò il mio cuore si sentì perduto. Avevo le labbra come sigillate e non ero in grado di pronunciare parola. E immediatamente lasciai l'arsenale. Questo accadde trent'anni fa. I miei figli, bambini a quel tempo, oggi sono uomini e sono al servizio di Cesare. e di Roma. Più di una volta, nel rivolgere loro esortazioni e consigli, ho parlato di lui. Un uomo che affrontava la morte con la linfa della vita sulle labbra e la misericordia per i carnefici negli occhi. Sono vecchio ora. Ho vissuto la pienezza degli anni. E penso in verità che né Pompeo né Cesare furono condottieri così grandi come quell'uomo di Galilea. Da quando infatti si lasciò uccidere senza opporre resistenza, una regione è sorta dalla terra per combattere in suo nome. E questi soldati lo servono da morto, meglio di quanto Cesare e Pompeo siano mai stati serviti da vivi.